Si è conclusa con grande successo la 14esima edizione della Sagra dello Gnocca La Fontana, organizzata dalla parrocchia Gesù Risorto di Pagani. Nonostante il cattivo tempo, numerosi visitatori si sono riversati su Via Fontana per gustare i deliziosi gnocchi fatti in casa e per godersi la buona musica che ha animato le serate. L'evento, ormai diventato un appuntamento fisso per gli amanti della cucina tradizionale, ha riscosso un grande successo anche quest'anno, un importante risultato anche per la raccolta fondi a sostegno delle iniziative della parrocchia. Ormai sono 14 anni e quest'anno il tempo non ci ha aiutato granché e però nonostante tutto c'è stata una bella partecipazione sia il sabato che la domenica e profitto per ringraziare tutti quanti coloro che sono venuti e prima ancora di loro quanti in diversi modi hanno contribuito alla realizzazione di questo evento che costa tanta fatica e tanto sacrificio e come dicevo qualche giorno fa è tutto basato sul volontariato, quindi tempo che si toglie al proprio tempo libero, alla propria famiglia, qualcuno anche al proprio lavoro che ha un lavoro autonomo, piglia qualche giorno di ferie per poter dare una mano alla realizzazione della sagra. L'obiettivo è sempre solidale, lo ricordiamo e raccontiamo anche a cosa saranno destinati tutti i proventi di questa iniziativa. Sì, saranno destinati un po' a sostenere le varie attività della parrocchia e in modo particolare a cercare di realizzare qualche altra piccola opera all'interno della parrocchia stessa che sì è stata inaugurata nel 2015 ma con tante piccole cose ancora da completare. Per esempio si sta pensando all'installazione dei pannelli solari, un po' anche per accogliere l'invito di Papa Francesco rivolto in modo particolare alle parrocchie a cercare di usare sistemi sostenibili anche per questo. Grazie Grazie Grazie